No, ma mi sembra più smart con questo C'è la crema pandistelle e quindi la assaggeremo per la prima volta qui con voi Itaico tu è rimasta? Ciao ragazzi Siamo pronti per iniziare questo video Questa è la crema pandistelle Non so se vi ricordate che i pandistelle non hanno avuto grande successo nel video che ho fatto l'altra volta Cosa c'è scritto? È spalmabile, non c'ho le cacao e dovrebbe essere abbastanza simile alla Nutella E questa è la crema pandistelle Cosa c'è la crema pandistelle Beh, dovete sapere che questa si vende sia in Giappone che in America, quindi non è un prodotto così strano in realtà Non c'è la prima volta Cosa c'è? Cosa c'è? Questa è più carina effettivamente Però c'è da dire che questa poi a trova grasso da non c'è Eh, non c'è Non c'è la prima volta Non c'è la prima volta All'estero però non è dentro questo pacchetto Questo pacchetto ce l'abbiamo solo noi Questa è molto simile Questa è la Carpool crema da spalmare nocciola Beh ragazzi Adesso parliamo un po' di il costo Questa costava 2,50 euro Non c'è la città Questa ce ne sono 200 grammi Costava 2,50 euro Questa la Nutella Mentre il pandistelle costava quasi 4 euro Ma ce ne sono 330 Quindi più o meno il prezzo è molto simile Mentre questa costava solo 1 euro Siccome non voglio influenzare il mio amico Spalmerò le varie creme e lui dovrà indovinare quali sono Ti facciamo indossare la mia maschera nella notte Al mio amico giapponese Ok Ti sta benissimo Bene ragazzi Scopriamo se realmente il prezzo vale la candela diciamo Allora partiamo con la prima E' proprio un po' liquida questa qua E la crema della Carpool è un po' liquida eh Apriamo anche la Nutella Mmmmm Questa noto già che è un po' più solida della crema della Carpool E apriamo anche la crema pandistelle Oh questa si è aperta subito Guardate che comoda Devo dire che questo punto va alla crema pandistelle Potremmo assaggiare i profumi Iniziamo Domo Nioi Che smelta come nats Questa sa di noci Che smelta come nats Oh my god smelta come more nats Che smelta come nats Che smelta come? 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 Ha detto che dal profumo quella che vorrebbe mangiare di più è questa Si passa al momento della verità Esperimenti di grande qualità ragazzi Portiamo la cultura su questo canale E iniziamo da questa Già che ci siamo ok Guardate quanta ne mettiamo Ok Ricordiamo che la prima è questa Vediamo un po' Qual è? E' un caldo Sta a mezzo Non tu? Mmm Proseguiamo con questa Mmm Assaggiamo anche io L'ultima è questa E che mondo sarebbe senza questa Bene ragazzi Devo dire che a me sono tutte uguali Però a sbagare l'ultima è diversa Ok Credo che questa è quella della Carpool Sì Questa è quella della Carpool Ma voglio provarle con le spoon Ok Vuoi provarle con le spoon Adesso le facciamo provare Facciamo l'ordine di prima Provare Questo dovrebbe essere la Questa è la E questa è la E questa è la Sì sì Tu le farò stato strumento? Questa? Ok C'è un po' la nausea devo dire Ok Questa è Rich taste Rich taste Ha un sapore molto intenso Questa è un pochino più Tranquilla Diciamo come sapore Dochigoshi Dochigoshi Ok Lui preferisce questa Mitsu no no ka de dore che chikonski Mmm Questa È la tua preferita tra tutte le tre? Sì Ragazzi Dore che ha dato un po' di Nutella? Questa è la crema della Carpool Questa è la crema della Carpool Questa è la crema della Carpool Questa è la Nutella Cioè è molto molto cremosa Ma ragazzi dirò una resia ma sapete che anche io preferisco la crema della Carpool? Cioè Cosa vuoi il sindaco? Cosa vuoi il sindaco? Cosa vuoi il sindaco? Noh Costa la metà e anche più buona Nutella se mi vuoi fare da sponsor però cambia subito idea eh Però Andiamo a vedere anche le calorie Allora Quanta calorie sono tutte uguali? Cosa pensi di questo? È buono? È buono È buono È un pochino È buono È buono Ma io non ho bisogno di Crunching Sì Almeno io ci sono dentro i pezzettini di pan di stelle Quindi se siete dei grandi amanti del pan di stelle Sono sicuro che la crema pan di stelle vi piace un sacco Io sinceramente preferisco una crema che sia tutta da spalmare Quindi mi piaceva di più la Nutella o Ragazzi quindi quale vince? Voto Sette 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 punti alla crema pan di stelle Nutella Sette Sette Nata Non è che era meno buona o più buona della crema pan di stelle Nata Ci dà un taste È proprio differente In realtà queste due sono più simili Queste due hanno un sapore Quella della Carpour e la Nutella hanno un sapore molto più simile Mentre La crema pan di stelle Sa più di cioccolato Mentre questa secondo me sa più di noce Concludiamo in bellezza con questa A cui diamo un Dice Lui dà un 10 Vabbè Io non sono un grande amante di tutte queste creme Se per essere sicuro Però a questa io do come sapore In realtà sapete che Cioè È quasi uguale alla Nutella Secondo me Non ho notato grandi differenze Mi piace un po' di più Perché ha un sapore più ricco Quindi a me è piaciuta di più Però come sapore non è che È tanto diverso dalla Nutella Quindi io sinceramente Considerando che costa meno della metà Io darei un 9 a questa 9 Quindi ragazzi Per noi la sfida È vinta dalla Carpour Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mettete un mi piace Ditemi anche quale di queste creme preferite voi E noi ci vediamo la prossima volta Un applausone da Seba Ciao Ciao Saluto Now Ugualmente Olio di palma, c'è l'olio di palma, vediamo se anche qui c'è l'olio di palma Anche qua c'è l'olio di palma Ancora qua c'è l'olio di girasole Queste due hanno l'olio di palma mentre questa c'è l'olio di girasole